ciao a tutti amici dello scorpione benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti io sono ilaria su questo canale parlerò di tarocchi chakra spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale oggi andremo a vedere le previsioni per questo autunno andremo a dare uno riguardo in generale e poi ci sarà un accenno a quello che la situazione affettiva piuttosto che lavorativa bene mostrami scorpione tendenze energetiche generali per l'autunno grazie abbiamo la carta della temperanza si parla di un periodo di ricerca dell'equilibrio o di ritorno probabilmente all'equilibrio carta della temperanza una carta che fa riferimento alla guarigione quindi a quello che il portare in equilibrio da un punto di vista energetico il divino maschile e il divino femminile ci parla anche di pazienza e probabilmente siete all'interno di una fase di un processo che appunto richiede pazienza andiamo a vedere qual è il coam per voi i con zen sono in origine erano delle tavolette di legno incise che venivano consegnate al discepolo quando questo andava dal maestro con qualche domanda di tipo filosofico il maestro consegnava loro di queste tavolette e il compito del discepolo era di meditare su questa affermazione andiamo a vedere qual è il vostro con bello questo questo questa esclamazione diciamo che si può tradurre i tempi nostri con il nì quindi è un qualcosa che non è né sì né no non c'è una risposta in realtà per il tipo di domanda o di quesito che avete voi in questo momento in quanto non c'è un giusto o sbagliato il tipo di scelta che state per affrontare ogni tipo di non lo so realtà che state vivendo è un po come se questa carta vi dicesse che è sempre tutto relativo ok ok andiamo a vedere con i tarot che cosa vi dicono intanto vi ricordo che le letture sono generali sono fatte per un collettivo quindi non risuonerà tutto prendete quello che vi serve lasciate andare il resto all'universo se non dovesse risuonare nulla se per caso volete completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente il segno lunare o la venere e nel caso vogliate contattarmi trovate la mia email sotto nella descrizione del video bene andiamo a vedere 3 di coppe al contrario interessante abbiamo la carta dell'eremita qui c'è qualcosa che ha a che vedere con un gruppo di persone qui ragazzi c'è qualcosa che riguarda degli amici potrebbe essere un gruppo familiare un gruppo di colleghi c'è una sorta di situazione sento per molte persone dalla quale vorrebbero letteralmente scappare c'è però un certo tipo di non consapevolezza se vogliamo che in un certo modo vi impedisce di fare il passo probabilmente siete in una fase dovete dovete decidere se stare o se andare per altri orizzonti perché qui questo cavaliere di di spada normalmente è una carta che dice quasi quasi consiglia di andare di essere determinati di fare questo movimento quando ci sono i cavalieri sono sempre dei movimenti andiamo avanti vediamo cosa altro vi dicono abbiamo la stella al contrario la regina di denari e la carta del mago ho come l'impressione che qui ci sia qualcuno tra gli amici dello scorpione che non abbia tanta voglia di socializzare mi verrebbe da dire anzi c'è più questa sensazione di lasciatemi stare di isolamento è un po come se perché guardate la carta della temperanza come vi dicevo all'inizio parla di portare in equilibrio quello che è il divino maschile con il divino femminile oppure si può anche vedere con portare in equilibrio la mente il cuore no e qui sento che in realtà è un po come se foste focalizzati su voi stessi proprio per cercare di capire che cosa è giusto per voi anche se in realtà abbiamo detto che non c'è un giusto sbagliato però ecco a livello orientativo capire perlomeno cosa volete manifestare cosa volete nella vostra vita insomma andiamo avanti vediamo cosa altro vi danno abbiamo il sole al contrario 6 di spade al contrario e la carta della forza al contrario ragazzi sento che sarà un periodo dove dovrete ogni tanto stringere i denti e tirare avanti fondamentalmente non che ci sia qualche cosa di negativo però c'è quella sorta di sensazione direi di isolamento di non sapere dove andare di sentirsi da solo nell'affrontare certi tipi di discorsi qui molte persone hanno bisogno di trovare il coraggio di stare in piedi con le proprie gambe mi verrebbe da dire il punto qual è che anche livello lavorativo qui non c'è una reale espansione guardate sento che molte persone hanno già una situazione lavorativa il punto che non li appaga ma non hanno comunque il coraggio e la forza di uscire da lì non se ne vogliono andare nonostante sentano di non star bene di non riuscire ad espandersi nel loro lavoro magari a crescere ad avere delle promozioni a parte quello c'è proprio questa difficoltà a lasciare andare anche solo l'idea mi verrebbe da dire probabilmente questo gruppo di persone potrebbero essere i colleghi andiamo avanti vediamo cosa vi dice abbiamo il ribelle quindi qui ragazzi si tratta di iniziare a creare voi le vostre regole l'integrazione un'altra volta la carta della temperanza l'eremita che è uscita un'altra volta quindi qui come vi dicevo si tratta di di creare voi le vostre regole cercate voi la vostra verità ok e ma molte persone posso dire di godersi anche un attimo questo momento di isolamento e di solitudine perché non durerà a lungo e fate attenzione perché qui abbiamo la morale quindi l'integrazione che dovete fare è delle vostre regole e verità lasciando stare la morale che arriva dall'esterno magari dalla religione andiamo avanti vediamo cos'altro vi dico abbiamo il mutamento armonia e giochi politici allora il mutamento è una bellissima ruota della fortuna del mercano numero 10 seguito da un 10 di coppe quindi direi che qui qualche tipo di evento sorpresa direi succederà guardate qui avete un 10 di coppe che è una carta di compimento e di appagamento a livello emotivo in realtà sento che cambiare qualche cosa è proprio in quella sfera normalmente quando c'è la ruota della fortuna sono cambi sempre positivi ed è come se arrivaste a raggiungere un nuovo diciamo così piano un nuovo livello di armonia tenete presente che siamo sulla stessa onda della carta della temperanza a livello di energia che ai portare in equilibrio diventare anche coerenti tra quello che si sente quello che si pensa e quello che si dice no in effetti poi dopo abbiamo la carta dei giochi politici la carta dei giochi politici ragazzi è un set di spade quindi fate attenzione alle proiezioni che potenzialmente potreste fare o alle bugie che magari vi state raccontando voi stessi vi dico in realtà se avete anche un 6 di spade al contrario quindi qui si tratta di lasciarsi indietro delle moralità delle credenze limitanti che si sono acquisiti durante l'infanzia e che scusate e che adesso comunque non sono non vi sono più utili io direi andiamo avanti guardate proiezioni e intensità quello che vi posso dire di non farvi di non farvi prendere troppo appunto questo è un 7 di coppia questo è un 7 di spade non fatevi prendere troppo dalle proiezioni dalle vostre idee da quello che voi per esempio da quello che voi credete che l'altro pensi o dall'idea che pensate l'altro a o l'altra abbia di voi perché quella una vostra supposizione non è detto che sia così comunque ok quella è una proiezione io proietto su di un altro quello che credo possa pensare e poi abbiamo la carta di intensità è un cavaliere di bastoni quindi qui sento che in qualche modo il periodo sarà improntato sul far chiarezza dentro voi stessi sul capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato per voi anche se in realtà non c'è un giusto o uno sbagliato c'è un vibra come in questo periodo o non vibra con me in questo periodo e può essere una persona una relazione una cosa un corso un cibo qualsiasi cosa io qui sento che il periodo sarà improntato in una forte introspezione interna ci sarà da capire che che verità è valida per voi senza farvi condizionare dagli amici da quello che potrebbero essere da quello che potrebbe essere la società da quello che potrebbe essere una madre o l'idea che aveva vostra madre la morale è una regina di spade e qui avete anche una regina di denari ok quindi si potrebbe per qualcuno trattare appunto di una madre guardate la carta della temperanza fa anche riferimento a una guarigione non ho altre carte diciamo in questo senso ma se doveste affrontare un'operazione o qualche tipo di diciamo disagio fisico piuttosto che cura il periodo autunnale lo vedo ben prospettato per questo tipo di cose perché comunque abbiamo la ruota della fortuna quindi c'è forza c'è questo periodo anche con l'eremita di isolamento ma è più per introspezione c'è questo ricaricare le pile insomma è come se iniziata a fare un po di pulizia cercate di togliere quello che non vi serve le proiezioni degli altri le aspettative degli altri e noto che si va verso quello che è la vostra realtà ok le vostre regole fate attenzione perché quando c'è l'imperatore il ribelle in questo caso viene chiamato in questo mazzo si tende sempre un po per raggiungere gli scopi che si sono prefissati ad essere troppo rigidi qui bisogna anche un attimino imparare essere flessibili cioè le regole vanno bene ma certe volte bisogna renderla un po più morbide ecco questo è un po il consiglio perché sennò se le regole poi sono troppo rigide va a finire che cioè se voi avete degli standard troppo alti va a finire che poi magari quella persona lì non lo so non vada bene per voi perché pensate proiettate che non abbia il vostro stesso standard ecco in realtà possono essere flessibili questi standard allora se siete single se siete single sento che arriverà qualcuno sarà una persona molto come vi posso dire calda potrebbe essere di un segno di terra quindi toro vergine e capricorno da un punto di vista invece lavorativo dovrete portare ancora un pochettino di pazienza non sento un reale cambio né a livello economico né a livello di situazione lavorativa scusate scusate per questo periodo non è detto che sia così per tutti ovviamente anzi vi auguro che se siete in cerca di lavoro le cose possano cambiare in realtà poi la ruota della fortuna ce l'abbiamo però è quel cambio che si dà uno scossone ma non vedo qualche cosa di definitivo poi ok anzi può anche darsi che qualcuno arrivi in offerta dove ci si debba spostare fisicamente magari a diversi chilometri di distanza piuttosto che a livello abitativo e ho paura che qualcuno qui rifiuti questa offerta di lavoro ok qui comunque il per il diciamo sì il consiglio del periodo è di portare pazienza con questa temperanza cercate di non scappare perché voi avete comunque un cavaliere di spade normalmente l'energia di una persona che tende a scappare che ma vedere ancora una carta da parte delle fatine per piacere grazie guardate in realtà è vero da un punto di vista lavorativo non vedo grossi movimenti come vi dicevo però la cosa positiva è che non vedo neanche perdite di denaro uscite impreviste o cose di questo genere resta un po tutto così più o meno diciamo in linea sul movimento di adesso abbiamo ok allora sono due carte una parla delle stelle e l'altra parla della musica allora praticamente vi dicono di sostanzialmente chiedere alle stelle contemplare le stelle guardare le stelle perché da lì poi può arrivare la risposta alle vostre domande fondamentalmente è un po come interrogare il destino no la vedo anche un po come il ascoltate l'oroscopo perché comunque le stelle fanno parte insomma vengono lette anche come oroscopo e poi abbiamo musica questa carta fa riferimento ai messaggi intrinsechi che potreste ascoltare proprio nei brani musicali quindi fate caso alle frasi e alle parole che sentite quando ascoltate musica perché in quel particolare brano o pezzo potrebbe esserci un messaggio che a voi risuona cari amici dello scorpione questo è quello che avevo per voi spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile io vi ringrazio di essere stati qui con me vi ringrazio anche di tutto il supporto che mi date sempre dei like delle iscrizioni delle condivisioni anzi continuate a condividere perché per me è importante ringrazio anche tutte le persone che stanno che hanno fatto delle donazioni vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao